Beh, secondo quanto dice questo libro, potremmo diventare tutti bilionari in una sola notte. Veramente? Ma va. Tutto quello che dovremo fare è piantare dei fagioli e subito crescerà un lungo gambo in cima al quale, in un magnifico castello, ci sarà una gallina che fa le uova d'oro. Proprio recentemente, tornando da un viaggio, ho portato un sacco di fagioli saltellanti. Io ho fatto la mia parte, adesso tocca a voi. Avanti, procuratevi le uova d'oro. Datevi dovere. Lavorate. Insomma, credo.